Il programma d'attualità al servizio del cittadino raccontato dai protagonisti. Io posso solo dire che di tutti i dati non ho visto nulla, mi scelta che la raccoglio per la corra. Ora che ci sia un bel po' di spreco, non si sapeva niente, le parole sono di tutte le persone. Ricostruiamo un po' la vicenda e poi le cambiamo. Mi manda a Rai 3, questa sera, le 1.10, su Rai 3. Il nostro programma a che sentire. Il grande jazz, il grande jazz, in un post di sindicato a risca, ha fatto eccezionale. Lui Sonscombe, è la di Chiave, Viliotte, Il Cessa, il grande jazz. Jamie Parker, Will Evans, Jeff Baker, Miles DeRis e tanti altri film. Il grande jazz, un copaletto invernite, pure nei migliori dei caotti di dischi. Il grande jazz, un copaletto invernite, pure nei migliori dei caotti di dischi. All'estate per il nostro mondo, guardo il nostro buon futuro. Il grande jazz, un copaletto invernite, pure nei migliori dei caotti di dischi. Il grande jazz e un'opera esalza da John.